Nelle ultime 24 ore sono 265 pazienti positivi al covid riscontrati in provincia di Caltanissetta. Aumenta lievemente la curva dei contagi. Sono 62 pazienti di Gela, 58 di Caltanissetta, 33 di Niscemi, 25 di San Cataldo, 10 di Milena, 10 di Mazzarino, 10 di Mussomeli, 10 di Sotmatino, 8 di Butera e gli altri pazienti positivi distribuiti nei vari paesi della provincia. C'è un nuovo ricovero e intanto ci sono anche delle dimissioni. Ma vediamo nel complesso il numero dei ricoverati. Nel reparto di malattie infettive dell'ospedale Sant'Elia resta sempre 44 come quello dei giorni precedenti. Sono in tutto 2632 i positivi in quarantena domiciliare in tutta la provincia. A Caltanissetta i positivi sono 532 e i ricoverati sono 11. Mentre a Gela i positivi sono 732 e i ricoverati sono 10.